Musica 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 Ti guardo. Allora. Salute. Sì, Orlando. Voglio fare un pane tagliato a fette. Non mi sento mica. No, dico, Orlando. Quale? Chi olete? Un pane, io. A quale siete? De Orlando. Non mi sento mica. No, Orlando. Voglio fare un pane tagliato a fette. Come? Non avevo mica in testa. Io n'importa che mi ha tagliato a fette. Festa. Non è mica possibile. Hai capito? Guarda qui. Orlando. Un pane tagliato a fette. Ha, ha, ha. Cinque secondes. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Coucou, ma chérie. Alors? C'est le premier jour avec Loulou? L'enfer. J'ai vécu l'enfer. Mais tu t'attendais à quoi? Un peu plus de bonne volonté, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre Loulou? Il a bloqué le standard. Ah bon? Il a fait comment? Il a appelé tout le village pour leur dire qu'il était le nouveau secrétaire de mairie. Tout le village? Tout le village. 90 appels. Et qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai dit. Ça pouvait pas durer comme ça. Je le garde pas. Oui. Et comment il a réagi? Il a rappelé tout le village pour leur dire qu'il n'était plus le secrétaire de mairie. Ah oui. 90 appels plus 90 appels. Oui, ça fait beaucoup d'appels. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Quanto fa in continente? Che si basa? Criminari, robocchi, delinquenze, non si può fare nulla. Se vuoi dire che vuoi cambiare il passato, cosa vi riempite? Nella cosa? Quindi, come ritrovare la calma di dando? Ciò lo fa come prima, ognuno spazia in casa sua. Ho posto l'aspiratore. Ma io l'aspiratore, sì, ma ho visto l'aspiratore non è abbastanza lungo per andare fuori. Ci sono le batterie, uo, eh? E' bella, ci sono le batterie. E tanto vuoi andare a fare l'abolizia in casa dei criminali. Boli d'arma abbolizza con l'aspiratore. No, ma di maniera di parlare. E' ma'abolizia, un nemico una maniera di parlare. E so di cosa parlo. Ah! Vabbè. E' così caso. Ah, ui, ui, un po' rivletti, uo. Ah, ui, un po' rivolti, ui, un po' rivolti, ui, un po' rivolti. Oh, sai, a me mi piacerebbe di sapere scrivere le poesie, eh? Le comediate a Morocchi, come Fusina, Thierry, Guicimino, eh? Ah, ah, ah. Che ne va? Oh, sai, il pedraga è mio. Eh? Allora scrivi. Scrivi Guicimino, poi scrivere anche tu, no? Non, ma sai che lo mi manca? Una piccola mousa. Oh, una mousetta, qua? Oh, che ballote! Ecco! Il popolo di gènes, qui vivono in questo villaggio, è oggi menacato. Leur jungle dispara. Ti posso dire, andiamo? Ah, è fatta, quando ti ha dragato a Loulou, ti ha regalato qualcosa. Yeah, miro tutto a scomodato. E che ti ha dato? La giudette che mi piace anni, il viore? E allora? E mi ha portato un matzo, lo tamante. E basta! No, ha giudato che mi piace anni, il croissant domenica mattina. E ti la portate a domenica mattina? Yeah! Allora, un capisco, Micà. Cosa? Ha giudato che mi piace anno, a musica e il torre. E ti ha regalato? Mi? 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 Grazie.